Ciao gormitici amici! Ciao! Allora, come va? Qui è un casino, nel senso, allora, oggi si parla di diari e si parla di diari perché stiamo vivendo un piccolo dramma, le scuole stanno per ricominciare No! Eh sì, invece sì. Quindi, allora, abbiamo pensato, beh, visto che le scuole stanno per ricominciare e noi siamo stati alla ricerca del diario per quest'anno scolastico, che non è dei gormiti, ma manteniamo il riservo su questa cosa, che è strettamente privata, e quindi parliamo dei diari storici dei gormiti. Sigla! Bentrovati gormitici amici! Se volevate ritrovare i giocattoli che amavate da bambini, siete approdati al canale giusto! Qui ritroverete la magia del vostro primo spacchettamento, l'emozione di quando vi regalarono la prima isola di Gorm. Benvenuti su Gormiti Collection! Questo che vedete sullo schermo è il primo diario mai stampato dei gormiti, per chi non lo sapesse. Venne distribuito di sicuro con il primo magazine dei gormiti, quindi col numero uno c'era il diario e Geus Atomic, blu, quello blu con la carta. Ma non lo so se poi venne distribuito anche nella maniera più normale possibile, ovvero acquistabile nei negozi, nelle cartolerie e nelle rivendite di materiale scolastico. Fatto sta che questo è il primo diario. Allora, come vedete in copertina ci sono i signori della seconda serie, il logo classico. Al lato abbiamo diario 10 mesi, quindi poteva essere sfruttato. Infatti ce ne sono ancora parecchi in giro di questi, se li volete recuperare. Questo e il retro ci sono i loghi sia di giochi preziosi che di preziosi collection, credo proprio perché è stato distribuito con il magazine e quindi in edicola. Allora, vediamo se c'è qualche codice a barre. No, non c'è nessun codice a barre, però qui vai sul sito che credo non esista più, digitalpreziosi.com, e ti aspettano tante sorprese. Però guardiamo dall'inizio. Allora, aprendo il diario, guardate che piccola meraviglia, con questi disegni monocromatici sul blu, insomma. Sono veramente una figata. Poi ci sono i dati personali, classe, sezione, uno scolastico, gli orari delle lezioni. Allora, vediamo le cose belle però, le cose particolari. Allora, tipo l'inizio dei mesi, ad esempio. Ah, boh, c'è qualche pubblicità delle motorette. Anche queste c'erano, mi dico, all'epoca non lo sapevo. Pubblicità del Toy Center. Ecco qua, settembre inizia, ovviamente. Col botto. Sì, col botto, orrore profondo. Fantastico. E poi, così per andare avanti. Allora, qui in alto ci sono dei... come dei dadi. Cos'è sta roba? Vedi? Quadrattino. Uno. Due. Che vuol dire? Non lo so. Vabbè. Qui in alto ci sono dei gormiti secondari. Geyserly Rose. Adesso io non ricordo i valori, no? Però sarebbe carino andare a vedere sulle carte se corrispondono oppure se sono casuali totalmente. Però è una cosa bella. La macciaio e il tagliagole. L'incandescente fantasma. Il misterioso cavaliere. Di nuovo orrore profondo. Poi si ricomincia. Bombos. Incubo di fuoco che prima non abbiamo nominato. E di nuovo a capo. Allora, andiamo a... Ah, poi ci sono dei giochi. Nella Tana. Inizia qui il tuo viaggio per la conquista del titolo di campione dei gormiti. Ok. Poi c'è un altro gioco. La sfida. Chissà se qualcuno di voi gli aveva questi diari e avete fatto il gioco. A ottobre c'è Elios il traditore. Con tutto il suo popolo. Beh, io vado avanti veloce perché ragazzi abbiamo tanti diari da vedere. Quindi facciamo una cosa veloce. Prossimo mese c'è Barbataus. Quindi Popolo della Foresta. Poi si passa a Carapax. Aspetta, aspetta. Cose interessanti. Allora, finisce novembre. C'è un altro gioco. Il Vulcano. E poi c'è una bellissima pubblicità. E' stata fantastica sta cosa. La pubblicità. Perché io non sono abituato. Perché i miei diari non avevano le pubblicità. Cioè c'erano ovviamente i vari personaggi. Avevo i diari dei Masters, delle Tarotarughe Ninja, quelle cose lì. Ma non ricordo ci fossero le pubblicità all'interno del diario. E invece qui c'era già un'ottica, un punto di vista diverso. Serie Atomic a settembre. Quindi iniziava la scuola e partiva la nuova serie Atomic. E poi la prima serie di magnetici. A dicembre c'è il buon Carpax col Popolo del Mare. Si passa altri giochini. Wow. Bello. Bello. Allora facciamo così. Torni indietro. Do la possibilità a chi vuole leggerselo. Così si mette in pausa. E se lo legge. Poi qui ci sono le varie squadre. La squadra rossa e la squadra blu. I compiti delle vacanze. Hai fatto i compiti delle vacanze tu? Si. Ok. Ottimo. A gennaio si partiva col Popolo della Terra e Colossus. Con tutti i suoi amichetti. Andiamo avanti e passiamo a... Aspetta qui c'è qualcosa di strano. Finisce l'anno c'è una pubblicità del Digi Blast. E nella pagina accanto a sinistra un altro gioco. E' inquietante sta pubblicità del Digi Blast. Questo bimbo con la lingua... Ok va bene. Poi febbraio. Ecco questa è una cosa che apprezzo parecchio. Hanno dato spazio a tre gormiti secondari senza ripetere un po' quello che è passato prima. Cioè orrore profondo. Quindi chissà se l'hanno fatto anche per gli altri popoli. Vediamo. Io spero proprio di sì. Ma tanto tu questo mica lo usi. Non te lo lascio usare. Qui c'è un altro giochino. Perché se no sarei il bambino più figo nella scuola. Ah sì? Allora. Qui a marzo e continuano con questa cosa. Quindi ci sono altri tre gormiti secondari. Bello. Arriviamo ad aprile. Per il popolo della... Andiamo ad altri due giochini. Eh ma quanti giochini? Wow. Un po' troppi. No. È un bellissimo diario. Sì. Lo trovo davvero bello. Ad aprile. Effettivamente. Continuo così. Quindi non abbiamo modo di dubitare. Ah. Troppo avanti. Allora. Qui sembra ci sia un altro gioco. Popolo dei gormiti. No. C'è un riassunto con i vari personaggi. E per ricordarsi. Perché voglio dire le cose importanti. Micca le tabelline. Ma chi se ne frega delle tabelline. Dico io. Cioè sto scherzando. Insomma. L'ignoranza. Lasciamola a... A inuira ad esempio. Quindi. Io spero che voi abbiate studiato le tabelline. Siete tutti dei ragazzi intelligenti. Immagino. Però qui bisognava studiare anche le varie tabelle. Col popolo dei gormiti. E ognuno il suo valore. Quindi a memoria. Tipo io adesso ti interrogo. Tu non guardare. Mi dici. Incubo di fuoco. Qual è la forza di incubo di fuoco. Entro oggi. Spara uno. Senta. No. Sette. Bocciato. Allora. Maggio va avanti con altri gormiti secondari. Ma guarda che belle che sono. Sono stupende. E' vero. Sì. 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 Molto belle. Davvero originale il fatto che non si ripetono i vari disegni. Sì. Non è una cosa. Qui c'è un'altra pubblicità. parla sì del sito digital preziosi. Gormiti per il tuo pc e per il tuo telefonino. Gli sfondi. Bello. Ah. Quindi scopri il tuo regalo. Evidentemente sarà stato uno sfondo esclusivo. Più o meno esclusivo. Però insomma. Credo che all'epoca qualcuno ci abbia creduto che era esclusivo. Comunque giugno. Ecco. Ultimo mese. C'è il popolo della terra. Poi è finito il diario. Vediamo se c'è qualche altra sorpresa. No. Altri compiti delle vacanze. La rubrica. Eeeh. Ah. Ok. Ci sono le soluzioni dei giochi. Non guardate le soluzioni. Fate i giochi senza guardare le soluzioni. Vi prego. Ok. Allora. Questo era il primo diario. Io ci ho messo già una vita. So già che non finirà mai questo video. Si passa a un secondo diario che è questo. Sempre per la seconda serie. A sto punto. Mentre. Vediamo. Giriamolo subito. Allora. La costina sembra uguale. Ecco. Vedete. Qui c'è un codice a barre e c'è solo il logo di giochi preziosi. Quindi immagino che prima ho detto una mezza verità. Nel senso che probabilmente quel diario è stato pensato e distribuito semplicemente per le edicole allegato al Gormiti Magazine. Poi evidentemente per via e traverse sono stati aperti gli invenduti e sono finiti anche nelle cartolerie perché ad esempio io uno di questi diari e quel diario là l'ho comprato in una cartoleria e quello sigillato dentro il Gormiti Magazine numero 1 è sigillato. Quindi quello non si tocca. Allora qui è uguale. E io credo che l'interno sarà assolutamente identico. Quindi cambia solo la copertina. Questo secondo me tra tutti i diari che vi farò vedere è il diario più raro che c'è dei Gormiti. Quindi da un punto di vista collezionistico questo diario qui, questa fantasia è la più rara. L'ho visto solo una volta, ho avuto l'occasione di acquistarlo e l'ho acquistato. Poi non l'ho più visto da nessuna parte. Quindi credo che questa sia anche la prima volta dopo quell'annuncio che vi di anni fa e comprai. E' la prima volta che viene mostrato e quindi si troveranno le immagini d'ora in avanti da qui. Sì, comunque è identico. Sì, è identico. Ok, perfetto. Quindi non sarà nemmeno che lo riguardiamo. Ci guardiamo ancora un attimo la copertina che è molto caruccia, come vedete. Bella, davvero bella. E passiamo alla serie successiva, ovvero alla terza serie dei Gormiti. Questo forse è il mio preferito. Eh, questo è bellissimo. Allora, c'è da dire una cosa. Vedremo, guardando i diari delle varie serie, vedremo una cosa. Praticamente per ogni serie di base ci sono sempre due diari, a parte per due serie. O perlomeno, io non ho mai trovato il secondo diario della terza serie e non l'ho mai visto. Quindi può esistere come no. Io in questo momento non lo so. E se qualcuno di voi ha un diario diverso dalla terza serie, ce lo faccio sapere nei commenti e poi magari ci mandate le foto su Instagram, così per curiosità, perché non l'ho mai visto. Allora, apriamolo. Ecco, qui invece c'è un'immagine a doppia pagina piena, insomma colorata, a differenza degli altri diari. Bellissimo. Qua ci sono parti della cartina, quindi la regione della luce bianca, c'è la cartina di Gorme, intendo. Ok, gli orari, guarda che bello. Allora esiste l'isola di Gorme. Sì, certo che esiste l'isola di Gorme. Allora, vediamo cos'altro c'è. Le giustificazioni. Hai bisogno di essere giustificato tu? No. No. Compagni di classe. Ah, pubblicità e primo giochino. Allora, qui c'è la pubblicità delle pantofole. Un giorno o l'altro dovremmo farci un video sulle pantofole, bellissime. E immagino che questa sia la collezione completa. Adesso inizio a perdere un po' di colpi, quindi una volta mi ricordavo tutto. Adesso non me lo ricordo più, ma vedo che c'era per la serie 2, c'è Colossus, c'è Orrore Profondo, Helios, Carrapax e Barbataos. Quindi tutti e cinque. Qua li hanno un po' mescolati. E invece per la serie 3 c'è Grandalbero, Obscurio, Antico Torg e Devil Fenix. Quindi manca qualcuno, ma immagino che queste siano tutte le ciabatte che hanno fatto all'epoca. Allora, il primo mese è dedicato all'Antico Torg. Ah, cosa bella? Si, riprendono i vecchi gormiti della prima serie e qui abbiamo in basso a destra, vedete, Furia Ceca. Questo è ancora più bello dell'altro diario, eh? Immaginazione. Si, stupenda. Geos, Gravitus, ok, Scova Nascondili. Quindi immagino che poi ci saranno anche i gormiti di seconda serie. E anche quelli della terza. Allora, per il momento settembre passa dai gormiti prima serie della terra e si va un po' stranamente ai gormiti della foresta. Ma non me l'aspettavo. Allora, qui abbiamo due immagini da colorare. Guarda che belle questi disegni di Henrieto stupendi di Obscurio e Antico Torg. E poi i nuovi ovetti. Pubblicità degli ovetti con Obscurio, Nobil Mantis e Sommo. Che buono. Eh, non so, io questi non li ho mai mangiati. Però ricordo che mangiavo degli ovetti della Dolci Preziosi, non so in che anni. Poi ho smesso con questa dipendenza. Però preferivo questi a quelli della Kinder. Quelli della Kinder non mi sono mai piaciuti. So che sono strano, ma non mi piacevano, non li ho mai apprezzati. Poi si passa ad Ottobre e si continua con il Popolo della Foresta. Qui c'è Tasarao. Eh, ok, qua c'è Delos. Granchios, Mantra. Ma che strano che è. Medusa Antica, Poivron, Stenaglia. Ah, lo sa qui la solitaria. Becco d'Acciaios, Verguardiano. Noctis. Magica Vedetta di nuovo. Pungolo, può essere? Poi c'è un gioco. Pubblicità del DigiBlast. Fantastico, con l'immagine del primo corto dentro. Non c'entra una mazza, immagino. O forse c'era qualche cartone animato. Però l'eclissi finale c'era, non c'era il primo corto per il DigiBlast. Chissà, non lo so. Perché il DigiBlast che ho io è rotto. Quindi ho i giochi, tutto, però non ho mai visto niente. Non ci ho mai giocato, ne devo prendere un'altra. Che sfiga. Allora, poi si passa a novembre con Obscurio e qui c'è il popolo del Vulcano. Vediamo, vediamo. Faccio ogni pagina perché non voglio perdere nulla. Nel senso che alla fine questi giochini, no? Tutte queste cose, sono cose un po' dimenticate. Che immagino nemmeno i ragazzi all'epoca, tutti quanti, abbiano avuto tutti i diari, no? Anche perché coprono, alla fine, una bella fetta temporale. Perché si va dal 2006 al 2013. Allora, qui c'è una stupenda cartina dell'isola di Gorm. Molto, molto bella. Andiamo ad aprire un po' così. La vede bene. Insomma, luminescente con Sfert che vomita. Ci sta. Sporius, Wapitaus, Nobile. Qua siamo alla seconda serie dei Gormiti. Qua parte il popolo del mare, sì. E poi si arriverà, immagino, alla terza serie. Allora, qui c'è una pagina vuota, non so per quale motivo. E un mini memory. Ah, ok, quasi taglia la pagina. Ah, non si fanno queste cose. Compiti delle vacanze. Gennaio si ricomincia con Devil Fenix. Gioia. Popolo dell'aria. Andiamo avanti, andiamo avanti. Pubblicità delle battle cards. Poi c'è. Isola di Gormo, un giochino, ha dimostrato la tua conoscenza del mondo dei Gormiti. Quindi devi mettere, no, Rifugio della Foresta, qual è? Ah, il numero 6. Sì, bravo. Bravo, bravissimo. Nobile Mantis. Poi si ricomincia... Ah, fantastico. Allora, qua è una cosa interessante. Qui ci sono, scusate un attimo. Le illustrazioni delle carte mistiche. Delle battle cards mistiche che hanno utilizzato solo lì. Peccato. Non si sa ancora chi ha disegnato, chi è il disegnatore di queste carte. Ma abbiamo provato a indagare, ma non ho scoperto nulla in questo caso, purtroppo. Però, mai dire mai. Gravitus cover nascondigli. Vediamo se c'è il popolo della lava. Allora... Ma belle, però, eh. È un peccato che non si sa chi le ha disegnate. Alcuni personaggi sono davvero belli. Allora, qui c'è il pezzo mancante. Ah, ok. Un altro giochino. Pubblicità digital preziosi. Il vecchio saggio. Oh. Ah, eccoci qua. Allora, qui c'è un'illustrazione di Electricon. Una bella illustrazione di Magno Infuocato. Insecticus. Credo che sia... Qui c'è Magmium. Guardiano Urlante. Arachno. Strappa Pensieri. Ora che belli. No. E poi si passa agli Atomic. Il Mangiaterra. Stalattite. Rocciatauro. Eh, peccato. Non ci sono quelli del Vulcano Lava. Quindi... Non li hanno utilizzati nemmeno qua. Incredibile. Poi si passa, come dicevo, alla serie Atomic. Qui c'è un altro gioco. E la pubblicità più o meno... Oddio. Boh, è una specie di pubblicità, però, di questo gioco. Adesso non mi ricordo se si chiama proprio così Astrag, la serie dei signori di Gorma. Immagino di sì. Che era un giochino. Magari un giorno ci facciamo un video, ci facciamo una partita. Avete voglia? Sì. Sì? Sì? Ok, va bene. A maggio ci sono i quattro signori del bene. Anzi, i tre signori del bene più il sommo che li protegge dalle avversità della scuola e della bocciatura imminente. Perché... A maggio. Senti la paura che cresce. È vero. Ecco, si finisce a maggio. No, c'è ancora qualcosa. Oh, cos'è questa lavaggio? Non ricordo male. Dovevi sputare, vedi? E colorare il fantastico mondo dei gormiti. Eh sì, le blow pants. Ecco qua. Bellissimo. Questo qua, anche qua, ritagliare. Non si fanno queste cose. Guai, ritagliare. Dovevano aggiungere un cartoncino o qualcosa, no? Ok. C'è anche giugno, bellissimo, per gli staccanovisti che vogliono andare a scuola fino agli ultimi giorni invece di andare al mare. Ok, allora, abbiamo finito anche il diario terza serie. Passiamo alla Final Evolution. Dicevamo, diario Final Evolution, ovvero il massimo per i diari dei gormiti. A livello estetico sicuramente è il più bello, sicuramente è la serie a cui tutti i fan dei gormiti sono legati, in qualche modo. E quindi vediamoci questo. Anche del diario Final Evolution io ho trovato una sola versione di copertina. Non ho mai trovato una seconda versione. Allora, mi è venuto in mente adesso, ho dimenticato una cosa. Magari la mettiamo adesso, ci mettiamo una foto da qualche parte. Ricordo di aver visto online la fotografia di un diario mitos, ma credo non sia mai stato prodotto. E quindi probabilmente non esiste. Mettiamo la fotina, eccolo qui. E quindi andiamo avanti con il diario Final Evolution. Quello lì non esiste, a meno che qualcuno di voi non lo abbia, allora fatecelo sapere. Allora, allora, allora. Allora, qui ci sono i simboli, come vedete, a metà, oscurità, luce, c'è il popolo del sole, della luna. Ah, qua si parte subito con un bel giochino. La grafica della Final Evolution è a di poco stupenda. A settembre c'è Sommo e Obscurio. Qui invece di essere a destra ci sono a sinistra, almeno perlomeno qui c'è il personaggio del Sommo. Sommo, Torg, sì, ci sono i signori, Nobil Mantis, qui abbiamo Obscurio, Armageddon. Poi, si passa ad un giochino con le differenze. Bello. Quante sono? Cinque. Cinque. Ne giochiamo, io ce ne ho tratto bravo, ne ho? Sì, il ginocchio, vero? No, la pancia. Sì, gli addominali che qua sono scolpiti e qui no. Sì. Qui c'è il ginocchio scolpito. E siamo a due. E qui no. E poi basta, non so stufo, dai, non ce la faccio più. I denti ci sono tutti? Sì. Non riesci a smettere? Basta, andiamo, lo facciamo dopo con calma. Allora, ma come, di nuovo sono luminescente? Ah no. Sì, sì, giusto, giusto, hai ragione. Ecco, vedi che mi distraio e dopo faccio degli errori scemi. No, qui non c'è niente, non c'è, bello che non c'è niente. Non è così bello questo diario? Occupre è triste. Aspetta, aspetta, che ho visto dei gormiti secondari. Ecco qua. Ok, qualcosa c'è. Ecco, che schifo. E da novembre in arrivo il cartone animato dei gormiti. Questa pagina qua, io spero che qualcuno di voi all'epoca l'abbia strappata, perché è veramente stona. Poi c'è il buono obscurio. Ah, sono interessanti queste cose, perché, insomma, a livello di storia, storia dei gormiti intendo, no? Storia dei prodotti dei gormiti. Fa capire. Ecco, io ad esempio all'inizio, quando ho iniziato a interessarmi i gormiti, non avevo capito. E invece poi ho capito che mentre era fuori questa serie spettacolare della Final Evolution, già sparavano con la serie cartoon. Io sarei stato tristissimo. Ok, qui c'è la pubblicità delle scarpe con le spille in omaggio. Bello, con l'espositore che si trovava nei negozi di scarpe. Fantastico. Bambino serissimo. Bambino serissimo. Vabbè. Poi abbiamo... Fa babarababà sempre... Ma non è molto bello questo diario. Aspetta, che c'è qualcosa di carino. Oh! Disegna libri. Disegna libri. Belli. Però... Ma guarda che carini. Poi pubblicità del monopattino. Qui è meno serio il bambino. È felice. Ma è un altro bambino. Guarda che bella felpa. Quanto vorrei una felpa così dei gormitti. Devo andare a stamparmela. Guarda il casco. Anche il casco dei gormitti. Eh sì. Il casco dei gormitti. Boh, del sommo luminescente. Eh che belli quei prodotti secondari. Molto semplice questo rispetto agli altri. Sì. È un bel diario. Però... Non mi dà... Grosse emozioni. Qua c'è un'altra robicità dello skateboard. Della bici. Dei pattini e del casco. Di nuovo le scarpe. Aprile. Con due personaggi. Ricrea il gormita. Maggio. Siamo quasi alla fine. E qui cosa è sta roba? Si va mai morta. Ritaglia gli inviti per la tua festa gormitica invece. Bellissima. Poi le silhouette. E si arriva alla fine con giugno. Ok. Anche qui le soluzioni. E abbiamo finito anche il diario Final Evolution. Che il retro è molto carino. Arriviamo alla serie del ritorno dei signori della natura. Ecco da qui in avanti i diari sono sempre doppi. Almeno doppi. Ma io credo che siano doppi e basta. E come sapete tutti. Non è che sono molto diciamo attratto dalla serie cartoon. Non mi è mai piaciuta più di tanto. Però ok. Fa parte della storia dei gormiti. E l'accettiamo. Poi figuriamoci per quello che stanno passando adesso. Questi erano oro colato. Allora. Considerato che i diari all'interno sono uguali. Vediamo subito un attimino le differenze. Qui sono perfettamente uguali. E dietro invece sono così. Allora ce ne guardiamo uno solo. Che tanto come dicevo sono la stessa identica cosa. Allora qui c'è. Ecco sono interessanti. Perché ovviamente qui c'è la cartina del Slodigorm. Serie cartoon. Qui c'è il tempio. Della serie. E i vari. I gormiti che preferisco. Beh non siete di certo voi. Allora. Qua partiamo a settembre con Lucas che spara il pugno. Ma che schifo. Eh cosa che schifo. Perché così gli esce tutto. Fluido. No. Quello è l'essere. È fluido. La limpa. La limpa. La limpa. Ok. Guarda che ci sono delle citazioni. Piuttosto. Un tempo il popolo di Gorm viveva pacificamente coltivando e cacciando sull'isla guidato dal vecchio saggio. La figura più antica di Gorm. Guida spirituale dei gormiti. Bello. Le pillole. Così uno poteva far colpo sulle ragazze raccontando queste cose. Eh certo. Immagino che le ragazze cadessero ai piedi dei ragazzi. Sicuramente. Ok. Allora. Ecco vedi qua. Guarda che schifo. Guarda che schifo. Eh sì. Lucas era così. Era. Aveva un carattere difficile. Allora. Qui altre scarpe. Mamma mia. Sono terribili. Veramente terribili. Terribili. Brutte. 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 E qui c'è la scheda. Nicolas. Ah. Ma è la prima volta che sento Nicolas. Ma il bambino? Sì. Ma non era Nick. Ma io so. Amici. Nick per gli amici. Eh certo. Nicolas. Non lo sapevo. E quindi Toby era Tobias. Eh certo. No sto scherzando. Vedi guarda. Adesso arriverà un amico. Tu dici. Vediamo. Impariamo qualcosa dal diario dei gormiti. Eh certo. Ma secondo me è uno sbaglio. No. C'è il tizio che l'ha impaginato. Ho detto ma questo come si chiama? Nicola. Boh. Non so. Scrivi Nicolas. Ok. Fatto. Allora. Quiz gormiti. Bello. Puoi lanciare. Può lanciare colpi infuocati potenti lampi di fuoco dagli occhi. Chi è? Ramartiglio. Grandalbero. Paludis. Nicolas. Ah no non c'è. E Nicolas. Credo anch'io. Allora io vi lascio aperto qua. Mettete in pausa. Vi fate il giochino. Che credo sia carino. Tra l'altro si parla di tutte le serie precedenti. Quindi è una cosa bella. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah ok. Qua si parla già della serie dell'Eclissi Suprema. Perché ci sono i quattro signori con le armature. Con le mistiche armature. Pubblicità degli episodi televisivi. Credo andassero in onda su Mediaset Italia 1. E i giochi? Non ci sono i giochi qua. Per il momento niente. Scheda personaggio. Lucas. Ok qua Lucas. Poi dicembre c'è il buon Magmion. Simpatico. C'era Bombos. Lavion. Che brutto che è sto Lavion qua. Quanto è brutto questo Lavion qua. Tanto. Peccato. Peccato. Un po' ridicolo. Poi abbiamo Toby. E non Tobias. Come detto. A gennaio. C'è anche Jessica. Però non le hanno dato una pagina. Un mese solo per lei. Triste. Cioè potevano fare il diario di Jessica. 12 mesi di Jessica. In tutte le pose possibili e immaginabili. Sarebbe stato bella. Sarebbe stato bellissimo. E invece no. Io l'avrei comprato. Anch'io. Allora. Poi arriviamo a febbraio. Ah ecco guarda. C'è l'altro quiz. Ah questo è il diario dei quiz. Fantastico. Allora guarda guarda. Dove si ritirarono i guerrieri di Magor dopo essere rimasti senza energia con cui alimentarsi. Ora lasciando perdere la risposta corretta che tutti voi golmetici amici sicuramente conoscete. Leggo la risposta C nel golfo di Chrome Nav. Mi fa ripensare a quel video che abbiamo fatto con Tentaclion. Quello col telecomandino. Quindi se non l'avete visto andate a vedervelo quel video che io ne vado particolarmente fiero. Ok andiamo avanti. Abbiamo febbraio c'è Orrore e Nick. Fanno bagordi. Arriviamo a caccia a Magor. In questa caccia al tesoro da giocare insieme ai tuoi amici il trofeo è la cattura di Magor. E poi gli fai lo scalpo a Magor. Questo è un gioco simpatico da fare con gli amichetti. E' vero. Attenti i gormiti vi catturano. Stavo per leggere attenti i gormiti vi rapiscono. Però sarebbe stato ancora peggio. I bambini giocano tutti insieme come se ci fosse un'unica squadra. Buon giochino anche qui. Ve lo lascio. Non giocate. Divertitevi. Scheda personaggio di Jessica. Debolezza. Ha delle difficoltà a chiamare il suo potere quando in spazi sotterranei o stretti. E beh ci credo. Considerato che ha delle ali gigantesche. Poi pubblici. Perdonami questo cos'è un glitch? Cos'è sta cosa? E' bellissima sta cosa. E' digitale in realtà questo diario. Non è cartaceo. Voi pensate sia cartaceo. Boh dopo si stabilizza. Allora. Gormita comanda color. Fantastico. Maggio ci sono tutti e quattro. Cioè io la faccia di Nick non la posso. Non la posso proprio vedere. Ma guarda. Nicola se è così. Abbiamo finito? Maggio. Giugno di nuovo tutti assieme. C'è un consiglio per una festa gormitica. Beh dovremmo farlo. Dovremmo fare una festa. E facciamo così. Una festa tra gormiti. Ideona ad ogni invitato sarà assegnato un gormita e dovrà interpretarlo al meglio. Pensa a te che bello. Io faccio Nicolas. Nicolas è il più richiesto. Lo vorrei fare anch'io. Orore profondo. Eh facile. Orore profondo. Devi fare quelli un po' più così. Un po' più. Ecco. Un po' meno orrore profondo. Poi c'è il Gormiti Club. Il sito. Chissà che bello. Completa la tua collezione. Scegli personaggi che ti mancano. Allora. Le soluzioni. Nella fine è carino come diario. Un po' più allegro di quello Final Evolution. Che non è che aveva. Chissà che l'hanno fatto in fretta. Bene. Allora passiamo alla serie successiva. Allora. Qui abbiamo anche qui due diari. Abbiamo l'era dell'Ecrisi Suprema. E hanno dato spazio al Somo Luminiscente. E poi al Somo Luminiscente con Nicolas, Tobias e Lucas. E Jessicas. Dove sta Jessicas? E Obscurios. Dove sta Obscurios? Perché non fanno mai Obscurios? Cosa dici? Perché? Perché non hanno fatto qua? E dire che nei quaderni di questa serie c'è il quaderno di Obscurio. Ragazzi. Attenzione. Quindi l'hanno fatto. Però nel diario non hanno avuto abbastanza coraggio da fare il diario di Obscurio. Peccato. Allora. Anche questi sono ovviamente identici. Il lato così. E il retro. L'hanno messo in quarta di copertina. Io fossi in Obscurio mi offenderei parecchio. Anche io mi offenderei. Esatto. Perché? 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 Perché Obscurio è il meglio. Obscurio è il meglio. Sono perfettamente d'accordo. Obscurio è il meglio. Quindi prendiamo il diario e lo guardiamo dalla fine. Perché questa in realtà è la prima. Ma allora vediamo. Allora qui abbiamo. Ah c'è Jessica. Jessica. Ma perché? Boh ok l'altro. Perché non c'è? Perché? Perché non c'è? Ma cosa avevate contro Jessica? Guardalo qua. Che figo. Il suo muro luminescente. Ma guardalo. Allora qui c'è anche la rubrica. Con i simboletti. Le materie. I compiti. I compiti per le vacanze. L'estate gormitica. Le dediche. Missione vacanze. Allora. Facciamo una cosa. Ricominciamo dall'inizio. Che è un po' più comodo. Ah. Ah. Che brutto quel simbolo. E chi ha capito ha capito. Vabbè. Con questo ci vuole fare la donazione. Ci manda. Casella postale 265. Mandateci il doblone. Non chiedeteci 10.000 euro. Insomma. Tenetevelo. Ah. Qua ci sono gli spazi per le foto. Vedi. Questo è un po' più originale. Qui c'è un codicillo per una sorpresa esclusiva. Quindi un altro sfondo. Immagino. Anche questo è carino. Però ci sono sempre le stesse immaginette sotto. Però è coerente. Quindi a settembre c'è quasi sempre Lucas. Andiamo ad ottobre che c'è il doblone Tobias. Qui cosa c'è? Ah. Ok. La pubblicità della serie tv. Neorganic. La serie successiva. Ok. Quindi non c'è niente. Poi c'è Toby con la mistica armatura. Oh niente. Però alla fine dei conti. A me i Neorganic. Tra questi qua. sono la versione più bella secondo me. Allora qua c'è qualcosina sul somo luminescente. Un po' di storia. Hm. Moloch mi pare. Però non ci giurerei. Sì è Moloch. È Moloch. Ok. Ma qua ci sono i secondari. Sì. Qualcosa sì c'è. L'equipaggiamento di un vero gormita. Ecco cosa vorrei per Natale. Regalini. Armageddon. E poi una bella immagina. Tutta pagina di oscurio. Bello in gennaio. Wow. In gennaio sì. Eh sì. Wow. Wow. Il mese più bello di tutti qua. Eh sì. Guarda che carine queste pagine. Così scure. Mi fanno pensare alla New Era. Ah Jessica. Jessica. Non ci credo. Una pagina per Jessica. Pazzesco. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Allora. Qua c'è un po' di storia di oscurio. A marzo. Dedicato al sommo. Il popolo della luce. Vediamo se ci sono anche i secondari. Forse perché a marzo sta... vedi la fine dell'anno scolastico in qualche modo. Troppo presto ma... Dici troppo presto ma no. Trova le differenze. Dai differenze. non esiste. Non esiste. Già prima ho perso. Non mi farò umiliare una seconda volta. Ah cos'è sta roba? Cos'è cos'è? No aspetta aspetta. E' bellissimo. Cagotto. No da dotto. Pasta per giocare. Cosa c'entra qui? Non so niente. Eh avrà avuto un sacco di successo. Bravo. Ok. No andiamo avanti. Poi c'è il buon Armageddon. Che stonava tantissimo quella pubblicità lì eh. Ma cosa c'entra? Ok. L'ultimo mese è dedicato a Tobias. Ormai non me l'ho togliato. E qui avevamo già visto. Quindi ok. L'abbiamo finito. Fantastico. Siamo quasi alla fine. Va più o meno. Allora. Qui abbiamo i due diari Neorganic. Allora. Guardate come stanno bene con lo sfondino verde. Fantastici. A me la serie Neorganic alla fine non dispiace affatto. Però scelta assurda. Assurda. Perché se da una parte ci sono i tre signori. Ovviamente escludendo Jessica. Perché mi sembra corretto. Dall'altra dai spazio al sommo luminescente. Obuscurio. Boh il sommo non c'era nell'Energanic mi pare. No non c'era. Però potevi dare spazio a Magmion. Ad esempio no? No niente. A Magmion o Obscurio potevano fare una roba carina. A Jessica. No. Hanno scelto Lucas. C'era il vecchio saggio. Magor. Potevano fare il vecchio saggio in Magor ad esempio. No. Niente. Allora. Vediamo il retro. Cioè. Tra l'altro. La stessa immagine. Stessa immagine. Con un po' di zoom. E via. Marina vedi meglio. Ok. Allora. Guardiamoci questo. Che tanto è uguale. Ecco. Vedete. Che figo. E che qua c'è Magor e Obscurio. Ma potevano usarli loro. No? Eh sì. Poi sono così fighi. Eh sì. E tra l'altro. Guarda che belli. I tre signori con il loro super power. So. Fighi. Eh. Qui c'è la tua foto gourmetica. Allora. Comunicazione. È un po' scolidino. Mi pare a me. Sì. È un pochino. Oh. Originale. Bello. Mi piace. Allora. I compagni di classe. Mmm. 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 Oh. Eccolo il vecchio saggio. Finalmente si è fatto vivo. Come si chiama lui? Vediamo che fai tanto bullet. Come si chiama? Dai. Uno. Due. Tre. Ah. Cavitus. Bocciato. Questo? Come si chiama questo? Lo sai? Non lo sai? Vangor. Ah. Ah. Devi studiare. Devi studiare le materie. Devi studiare le materie urmi. Nicolas. Nicola. Ah. 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 Santo cielo. Tobias. Guarda Tobias col suo scudo. Ma pensa a te che adesso c'è quel... Come lo definiresti Acu tu? Chi? Sì giusto. No. Mi sembra... Eh guarda. Bello lui. Bello. Bello. Non mi ricordo come ti chiami ma bellissimo. No. Sei il mio preferito. Proprio tu. Non ti credi... Tipo sai quando incontri uno non ti ricordi come si chiama no? La classica battuta. Eh mitico. Grandissimo. Amico. Ecco stessa storia. Questa invece è la macquatica. Lui me lo ricorda. Eh lui è un altro che direi grandissimo. Que' è grande. Allora. Andiamo avanti un po' più veloci dai. Allora ottobre. A novembre c'è l'abusatissimo Lucas. Lui come si chiama? Ah niente. Non sai niente. Ma ma non sai niente. Ma perché non lo fai studiare? Eh? Allora. Poi abbiamo dicembre. Tutti cattivi. Guarda che bella che era st'immagine per la... Miglior anno. Ma che miglior anno? Miglior mese. Miglior mese. Eh. Scusi. Mi sbaglio. Potevano farci una copertina no? Con quell'immagine. Cosa dici? Sì. Eh sì. Ma a te ti verrebbe voglia di usare uno di questi diari per l'anno scolastico? Sì. Sì. Però non succederà. Peccato. Non succederà. Non succederà. Peccato. Sì sì. Tu adesso fai parte di quella generazione con i diari tutti un po' così generici, strani e no? Vabbè. Allora. Febbraio. Andiamo a marzo. Ci sono sempre loro tre. Ma Jessica qui c'era? Sì. C'era no? Che hai visto? Visto un fantasma? No. Guarda. Guarda Magor. No. Bello. Non c'è Jessica. Non c'è Jessica? C'era in quello prima? Sì. Ma qui proprio Jessica niente. Aspetta c'è ancora Maggio e Giugno dai. No. Maggio c'è il vecchio saggio e Magor. Ecco la copertina che diceva. Eh. Aspetta. Forse è a Giugno. Dai Giugno. 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 No. No. Ma che tristezza. Ma perché la odiavano? Non lo so io. Perché la odiavano così tanto? Quella povera donna. Quella povera donna. Cosa ha fatto di male? Rubrica telefonica. Bene. E abbiamo finito anche questo. Allora. Siamo all'ultima serie. Dei diari. Dei gornizi. Dei gornizi. Sì. Esatto. Siamo alla Natur Unleashed. Allora. Qui abbiamo trovato queste due versioni. Abbiamo il buon Agrom. E dall'altra parte abbiamo Piron. Agrom. Sempre la stessa immagine. Ovviamente. E Tazaru. E anche qui hanno tolto Noctis. Perché pensavano che fosse Jessica. Travestita da uccello. Ha detto. Ma la dobbiamo mettere? No. E allora non l'hanno messa. È andata così. Chiaramente. Il retro è identico. A parte la cornicetta. Che da una parte è grigia. E dall'altra è rossa. Allora. Per una questione di cromatismo. Ci guardiamo quello con la cornicetta rossa. Io mi immagino tutti i ragazzi che dicevano. Ti ricordi quando spalavamo l'etame sui gornizi Natural Unleashed. Adesso come va? Va che a me hanno fatto passare la voglia di comprare gornizi. Ad esempio. Non so voi. Ci buttiamo su altre cose. Allora. Il diario è abbastanza triste. C'è una cosa. Adesso appena finiamo il mese. Ok. Qui abbiamo Piron. C'era un concorso. Che vincevi dei tablet. Ok. Niente. C'era un concorso che vincevi qualcosa di speciale dei gourmet. Che vincevi un tablet. Chissà se era vero questo almeno. Non ci sono i giochi qua. Aspetta. Per ora no. C'è una pubblicità del subuteo. Subuteo. Anche qua. Non c'è tra niente. E qua proprio. Ragazzi miei. Non c'è nulla. Ok. Interessante. Quest'anno i segreti della natura ti verranno svelati dai gourmeti Geolab. Potenza metallica. Domina natura con i sorprendenti esperimenti che trovi su Gourmeti Club. Bello questo. Eh sì. Poi da quanto ho capito doveva uscire una seconda serie di gourmeti Natural Unleashed. Ma non uscì mai. Esistono soltanto alcune ricolorazioni denominate Geolab. Ma di action figure dei 12-15 cm giganti. Adesso non ricordo se ne abbiamo parlato in qualche video passato. Ma immagino che qualcosina abbiamo fatto vedere. Compiti delle vacanze. Guarda qua. Qua sta grafica tristissima. Mmm. Mmm. Eh ma che brutto. Peggior diario di sempre. Boh ragazzi non è l'ultimo diario. Ci sono tre cose particolari alla fine. Come teniamo noi delle cose curiose. Quindi aspettate a chiudere il video. Qui c'è la pubblicità delle card digitali. Che era una cosa interessante. Purtroppo io non ho mai visto l'app. Ma vabbè. Me ne farò una ragione. Qui c'è anche tu un sorprendente. Il mondo del Gormiti Magazine. Pubblicità. Gadget ultra gormitici. Ho imparato. Mmm. Chissà cosa ne ho imparato. Niente giochi. Ma proprio niente. No. Tristissimo. È un po' tristissimo sì. Poi vedi che dentro è tutto grigietto. Io volevo... Pubblicità dei trash pack. Tu ne hai qualcuno di questi vero? Belli. Sì, sono carini. La pagina migliore del Gormiti Magazine. Eh, questa è la pagina più bella. Guarda, il lavastrade. Sapevi che c'era sta cosa? No. È il mangia bidoni? Mmm. Bisogna andare a cercarli. Eh, sì. Perché poi ogni tanto li vedo nei negozi, sti cosi di trash pack. Cioè, tipo, non ne hanno venduto nessuno. No, veramente? Eh, sì. Dovresti saperlo, no? Visto che ne hai avuti alcuni. Quindi... Niente, è finito così. Ah, che tristezza. Allora, come vi dicevo, ci sono delle cose particolari. Ovvero, dei diari esteri. Ne abbiamo tre. Il più bello è il primo. Eccolo qua. Allora, questa qui è un'agenda spagnola, in teoria. È molto bella. La copertina è bellissima. Ci sono tutti i signori, ma per tutti intendo tutti, perché ci sono sia quelli di prima serie che quelli di terza serie. E non c'è nessuno che... Boh, mancano quelli di seconda, d'accordo. Però, insomma, figo. Agenda del 2009. Qui ci sono tutti i vari elementi. Los Invincibles Señores de la Naturaleza. Allora, come vedete, qui c'è, se non ricordo male, identico al diario della seconda serie. Nostro, vero? Allora. Bellissimo. Parte con la storia. Fantastico. Pubblicità, anche qui, delle scarpe, che mi sembrano diverse da quelle che abbiamo visto in Italia. Molto interessante. Comunicazioni. Vabbè, ma quante comunicazioni. Aspetta, sicuramente ho perso. Eh, infatti. Allora, mi sa che assomiglia tanto al diario della seconda serie italiano, vero? Sì. Qua c'è lo spazio per disegnare i tuoi gormiti. Sì, sì. Sì, esatto. È proprio quello. Diciamo che è particolare il fatto della copertina inedita, ma all'interno è praticamente lo stesso. Quindi, con i personaggi seconda serie. Qua devi disegnare. Hanno tolto i giochini. Esatto, sì. Non so che le facce di vuote per disegnare. Spazio alla creatività. Chissà. Sì, nessun gioco. Potevano metterci qualche magari pubblicità a sto punto, qualcosì. Oppure qualche qualche gormita da colorare, no? Esatto. Sì, sì. Comunque è figo. Il fatto che comunque ci siano dei diari anche esteri. E niente. Ah, aspetta. Eccoci qua. La parte bella. La parte bella. C'è il fumetto alla fine del diario. Boh, non pubblicità con delle palline, penne. Cos'è sta roba? Quei glitter? Che roba è? Non lo so. L'origine del mito. Ovviamente in spagnolo. Guardate che roba carina. Fantastico. Molto bello. Bello. Bellissimo. Bellissimo, sì. Bene. E qui c'è una pubblicità della terza serie. E questo è il primo diario estero. Poi abbiamo un secondo diario. Allora, questo qui è dell'anno successivo. E teoricamente è portoghese questo. È della serie cartoon. Dietro ci sono i quattro odiatissimi ragazzini. E qui c'è Nicolas che urla. Così così. Adesso vediamo a questo punto. Intanto la grafica mi sembra uguale a quella del precedente. Esatto. Ma proprio uguale, uguale, uguale. Ok. Questa cambia. Questo invece cambia. È diverso. Questo è diverso dai nostri italiani. C'è sempre questa cosa qui del dado in alto che avevamo notato già prima. Qui c'è Markmion. Beh, comunque è diverso dai nostri. Però sempre i disegni. Qua c'è Marzo, Jessica, sì, Aprile, Lucas, poi vediamo a maggio c'era Tobias. Poi c'è lui. Lui. Eh, Jessica ragazzina. Ma no, ma che carino. Lucas ragazzina. Lavion. Di nuovo, di nuovo Jessica. Questo è il diario. Esatto. No. Poi c'è... Ok. Ok. Che scopo. Che problemi hai con Lucas? Non lo so. Tobias. Fa questa mossetta spaventosissima. Minacciosa. All'agenda. Ok. Pagine bianche qua per disegnare, scrivere. Ed è finito. Allora, arriviamo all'ultimo diario che è una cosa un po' particolare, un po' diversa da tutte le altre. E' francese, il formato è leggermente diverso, un pochino più grande, meno pagine, più stretto, come vedete. Però, è sempre un prodotto per la scuola. E' un po' triste, è davvero triste, devo dirvelo. Ve ne accorgerete guardandolo, sembra un'agenda, qui è anche un po' scollato. Vabbè. E' fatto così. Però, come vedete, primo, secondo, terzo trimestre, materie. Sono già per i più grandi, no? Non lo so, sì, sembra una... E' ragazzi seri. Sì, però, questa copertina, non credo che fosse... Qui non c'è davvero nulla da vedere, quindi, io lo schippo così. Cioè, insomma, ok. Questo è quanto. Allora, beh, con questo video, intanto vi ringraziamo chi è rimasto fino alla fine e auguriamo un buon inizio scolastico a tutti, per quelli che hanno finito le scuole non piangete, ve ne dovete fare una ragione, è finita la pacchia. E quindi, ci vediamo un prossimo video di Gormiti Collection, ciao, buon anno scolastico, divertitevi, studiate, fate le cose che dovete fare. Ciao, ciao! Ciao, ciao!